Un cantiere a cielo aperto. In vista del giubileo del 2025 proseguono i lavori di riqualificazione della capitale. Ma se da una parte la manutenzione di strade e piazze è necessaria per migliorare la città, dall'altra l'enorme quantità di cantieri aperti crea scontento tra residenti e commercianti. Per esempio in via dei corridori, nella zona di Borgo, dove dal 13 novembre sono iniziati i lavori per la sistemazione dei San Pietrini. Se chiudono la strada ovviamente non è che passa molta gente, quindi il lavoro sicuramente calerà. Noi non sapevamo niente di questa cosa. Se i commercianti lamentano di non essere stati informati, i residenti temono ripercussioni sulla viabilità. Non penso che sia un bene per la viabilità e nemmeno per i residenti. Si spera che finiscano prima possibile, anche se è possibile anche questo. Tuttavia l'assessorato smentisce l'esistenza di proteste dei commercianti. Gli interventi di restyling saranno divisi in quattro fasi, partendo proprio da via dei corridori nel rione di Borgo. I lavori proseguiranno poi su via Rusticucci, via dell'Erba, vicolo dell'Inferriata, vicolo del Campanile e Borgo Sant'Angelo. L'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha spiegato sul sito del Comune di Roma che si tratta di lavori complessi e che richiedono un'abilità non indifferente.